Sì Lucia, ci siamo spostati proprio per farvi vedere in concreto da quella casetta senza il pavimento cosa è arrivato. Quella che vedete alle nostre spalle è la spianata e do il buongiorno e il benvenuto a Don Francesco Sicari, responsabile della comunicazione della diocesi. Buongiorno. Buongiorno a voi, ci troviamo con alle spalle la grande chiesa e la spianata dove sabato 6 aprile si è svolto questo grande evento che è stato un momento di chiesa davvero bello ed entusiasmante, carico di emozioni. Don Francesco, carico di emozioni e carico di persone, se noi volessimo fare più o meno un conteggio delle persone che erano arrivate qui, più o meno a quanto siamo arrivati? Il numero di persone presenti sicuramente superava 7.000 persone. 7.000 un po' era il numero limite datoci dalle autorità ma sicuramente c'era più di 7.000 persone, tantissime le autorità anche politiche, civili e militari presenti, tantissimi sacerdoti della nostra diocesi, tantissime le persone ammalate in carrozzina che hanno voluto condividere nella sofferenza della loro carne questo momento bello di preghiera e di incontro con il Signore e con mamma Natuzza. Noi lo stiamo vedendo anche dalle immagini, questa spianata era gremita di gente, come dicevi tu, tante persone anche nella sofferenza, nel dolore in carrozzina o anche con altre difficoltà. Tra l'altro Lucia, sabato c'è stato anche il rischio di pioggia, a un certo punto pioveva anche qui, eppure c'era il desiderio. Dove siamo noi? Proprio in questo punto le persone facevano la fila per arrivare alla tomba, la tomba che è lì dietro dove eravamo prima. Perché? Perché fare la fila? Tu l'hai vissuto anche nel tuo periodo qui da parroco. Perché le persone hanno bisogno di Natuzza? Io mi piace rispondere a questa domanda con una frase di Papa Francesco. Nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco usa un'espressione, come se vedessero l'invisibile. Io sono convinto che tutte le persone, da quelle più semplici alle persone anche, diciamo, un po' più acculturate, vengono qui perché Natuzza è stata testimone concreta dell'invisibile, di un Dio che si è fatto amore, di un Dio che è vicinanza, di un Dio che è prossimità. In lei trovavano veramente il buon samaritano, questa persona che sapeva accogliere, accompagnare, consolare con uno sguardo, con una parola, con una carezza. E anche adesso, anche se Natuzza non è più presente fisicamente, andare alla tomba significa rivivere quell'esperienza. Che è un po' anche quello che diceva Pasquale, Lucia, cioè lui ha la certezza della fede, non crede per fede ma perché ha avuto e ha vissuto quella certezza. Grazie Don Francesco. Noi ci rivediamo tra pochissimo, Lucia, proprio per continuare a farvi conoscere le persone che erano qui sabato, ma anche per portarvi ancora un'altra testimonianza, quella di un'altra figlia di Natuzza, Angela, proprio perché la mamma forse con le figlie femmine un po' di più si confidava. Quindi ci rivediamo tra poco. Bellissima.